Salve amici del Centro Medio Italiano, nei prossimi giorni l'Italia si troverà a fare conti con qualche temporale e soprattutto pomeridiano, in un contesto comunque sempre estivo. Mercoledì 19 giugno infatti sono attesi fenomeni localmente intensi su Alpi, Prealpi e Appennino Centromeridionale, ed iniziare dal pomeriggio. Questi si andranno ad esaurire in serata con le precipitazioni, specie sull'arco alpino. Giovedì 20 l'anticiclone inizierà ad espandersi nuovamente sulla nostra penisola, con dunque l'instabilità pomeridiana confinata sulle Alpi. A seguire in vista del weekend la stabilità sarà il tratto distintivo del meteo, con le temperature che sono previste in aumento su tutta l'Italia. Gli ultimi residui fenomeni saranno pomeridiani, interesseranno le Alpi, mentre altrove il sole sarà prevalente. Per tutti i dettagli sull'evoluzione del tempo sulla nostra penisola vi invitiamo come sempre a seguire il nostro sito o il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centromeridio Italiano. Un saluto da parte del Centromeridio Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.